Ma il signore non è nel terremoto, e dopo il terremoto il fuoco! Ma il signore non è nel fuoco, e dopo il fuoco una voce gridò! Scusate, ho avuto qualche piccola noia. Noie di pochissimo conto. Piccole noie domestiche. Niente di cui potersi allarmare, solo... solo... mascurabili. Problemi femminili. Salve. Non fateci caso. È un trucco dozzinale. Chiunque può farlo. Sono stato io a insegnarlo a quelle tre. Irriconoscenti piccole streghe. Io vi chiedo una cosa. Voi siete tutti di chiesa, e voglio proprio farvi una bella domanda. Voi credete che Dio sapesse quello che faceva quando creò la donna? Eh? Non sono palle. Io voglio proprio saperlo. Oppure pensate che sia solo un altro dei suoi errori più modesti, come i maremoti, i terremoti, le alluvioni! Pensate che le donne siano fra quelli? Beh, cosa c'è? Non credete che Dio faccia errori? Certamente che li fa. Tutti facciamo errori. Certo, se li facciamo noi, li chiamano il male. Quando Dio fa gli errori, li chiamano natura. Allora cosa pensate? Le donne? Un errore? Un'azione che ci ha fatto a ragion veduta? Perché io voglio proprio saperlo? Perché se è un errore, forse noi in qualche modo potremmo provvedere. Trovare una cura. Inventare un vaccino. Rafforzare le nostre difese immunitarie. Se no fare della ginnastica. Che so, 20-30 flessioni al giorno. E non sarete mai più afflitti dal morbo femminino. Guariti a vita! No! Va bene, basta. Ma avrà funzionato? Beh, non c'è che aspettare e vedere.